Tutti i giorni dobbiamo confrontarci con i nostri limiti. Che tu sia un atleta o no, quello che conta è oltrepassarli. Accetta la competizione. Ascolta il tuo battito. Sali in sella e vivi un'esperienza unica. Dalle competizioni alla strada. Corri con la perfetta combinazione di materia, design e tecnologia. M4 Superlight. Il cuore non mente mai. M4 Superlight. Grazie a tutti.